Liguria blindata per una settimana a causa coronavirus. Scuole, musei e palestre resteranno chiuse. Il presidente della regione Giovanni Totti, nella serata di ieri, ha infatti disposto una serie di norme volte alla tutela della salute pubblica, così da limitare al minimo il rischio contagio. I fatti legati al coronavirus, che si stanno registrando in queste ore in Italia, in particolare nelle regioni del nord, spingono sempre di più verso la linea della prudenza. Sono stati quindi presi questi provvedimenti. La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura. La sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie, ivi compresi i tirocini. Annullati i viaggi di istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero. Viettata l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche. Infine la sospensione dei concorsi pubblici, tranne quelli relative alle professioni sanitarie.